La Notte della Cultura ha animato anche le sale del Museo Archeologico. Nel pomeriggio il concerto a cura dell'Istituto Musicale Giovanni Paesiello, che si è esibito nell'atrio principale del Martà. Durante la serata è stata celebrata anche l'importanza di alcune delle collezioni dei preziosissimi reperti che caratterizzano la ricchezza storico-culturale del Museo, con la proiezione su un apposito schermo delle immagini più suggestive di gemme, monili, bracciali, collane, corone che formano quel patrimonio di arte orafa conosciuta come gli ori di Taranto. Il Martà ha aderito alla proposta degli organizzatori della Notte della Cultura di accogliere delle performance musicali all'interno del Museo. Il Museo è il luogo preposto a varie forme culturali. Naturalmente la musica è una di quelle che si presta meglio a fondersi con l'archeologia. Siamo ben felici di essere qui, ospiti del Museo, per la serata alla cultura. Taranto a volte viene considerata solo per altri fattori e altre situazioni. Ebbene, questa sera vogliamo dimostrare il contrario. I Diamond Strings, quindi un quartetto di arpe, più la collaborazione del maestro Michele Santoro alla chitarra. Eseguiremo musiche da repertorio classico medievale e a termine finire con la musica sudamericana, quindi qualcosa di innovativo, qualcosa di diverso.